Sei un giovane e vuoi sapere quali sono le migliori opportunità di lavoro oggi e per il tuo futuro? Devi scegliere una scuola e vuoi scoprire quale professione potrai svolgere con quel titolo di studio? Se la tua formazione è interessante per le imprese e quali sono le competenze da sviluppare? Hai una passione e vuoi trasformarla in un lavoro? La risposta a queste domande la trovi su Excelsior. Che cos'è Excelsior? È un sistema informativo di Union Camere e Anbal che raccoglie e analizza la domanda di lavoro espressa dalle imprese. Cosa fa Excelsior? Attraverso indagini mensili rileva sull'intero territorio nazionale, grazie anche alla rete territoriale delle Camere di Commercio, le esigenze occupazionali dei settori industria e servizi. Risultato? Una fotografia territoriale dei titoli di studio ricercati dalle imprese, le professioni richieste, le principali caratteristiche e le competenze da sviluppare per essere apprezzato nel mondo del lavoro. La formazione, la preferenza per i giovani, l'esperienza. Ma anche quali professioni sono difficili da reperire sul mercato, quali sono le più innovative e ricercate nei diversi settori economici e in ogni provincia. E non solo. Excelsior pensa anche al futuro, con previsioni a medio termine delle tendenze dei prossimi 5 anni dell'occupazione, suggerendo i percorsi scolastici e formativi per essere al passo con i tempi. Sei un giovane che pensa al lavoro? Sei un genitore o un insegnante che vuole aiutare i suoi ragazzi a trovare una strada di successo? Chiedi a Excelsior. Vieni subito su excelsior.unioncamere.net Vieni subito su excelsior.